Il contatore delle bugie. Questo è il titolo del manifesto datato il 21 luglio e affisso per le vie del centro abitato di Novivelia a firma di alcuni dei consiglieri dimissionari del comune. Un documento che prende spunto dalla questione dei contatori dell'acqua per poi ironizzare su quante bugie la ex sindaca Maria Ricchiuti continuerebbe a raccontare in perterrita al fine di giustificare la sua disavventura politica. Il manifesto però in realtà riguarda il nuovo PUC e Agnello Di Polito, uno dei firmatari del cartellone, spiega il perché. Qualche mese fa, riferisce Di Polito, la nuova giunta esterna scelta dalla Ricchiuti ha approvato il nuovo PUC, la cui versione ribalta completamente la vecchia, quella risalente all'estate 2016, curata da tutti i consiglieri prima dell'oramai nota scissione. Nella nuova versione, aggiunge Di Polito, salta agli occhi di tutti la presenza di alcuni interessi privati. Noi abbiamo pubblicato entrambe le versioni dei PUC, alla cittadinanza dunque le dovute osservazioni, a nostro parere, oggettive.